E salve a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Apple Zain, di cosa parliamo oggi. Qualche giorno fa è uscito iOS 8.4 Beta 1. Ma che novità presenta questa nuova versione software che ha rilasciato Apple per iPhone e iPad? Ve lo mostriamo subito. Ed eccoci qui con la versione 8.4 della Beta 1 del nuovo iOS. Allora vi faccio vedere subito le novità. La novità ovviamente unica e principale è l'app musica. Avviamo l'app musica, ovviamente sono tutti i brani acquistati perché ovviamente vogliamo farvi vedere in modo perfetto tutto ciò che siano le cover e quant'altro. Non esiste più la modalità landscape, infatti noi in questo momento stiamo girando l'iPhone ma non succede assolutamente nulla. La grafica ovviamente è cambiata, c'è un tasto cerca qui in alto dove possiamo ricercare la nostra musica e ricercare anche i brani nella nostra radio. Proviamo a cercare un brano, qui si tratta ovviamente di iTunes Radio, ovviamente da noi dovrebbe non funzionare, quindi infatti non funziona. Qui possiamo trovare la nostra musica, quindi ricercare sulla nostra musica all'interno della nostra libreria che ovviamente ci fornirà tutti i nostri brani che abbiamo appunto ricercato in base al tag di ricerca che abbiamo utilizzato. Qui gli artisti, possiamo selezionare invece la visualizzazione degli album classica oppure possiamo cambiare direttamente in brani e ci verranno mostrati tutti i nostri brani. Qui sopra in alto c'è una barra aggiunti di recente dove possiamo fare altro e vedere appunto tutto ciò che è stato aggiunto di recente, ovvero gli ultimi nostri acquisti in fattore di musica. Possiamo appunto dal menu laterale riprodurre, aggiungere in coda, rendere disponibile non in linea, mostrare in iTunes Store ed eliminare. Possiamo ovviamente tappare sul cover per avviare ovviamente il brano. C'è anche un tasto cerca sempre in ogni pagina che ci favorisce appunto la ricerca di tutti i nostri brani musicali. Qui abbiamo le stesse impostazioni che avevamo prima. Adesso possiamo accedere alle nostre playlist dal basso. Qui abbiamo le nostre playlist dove possiamo modificare tramite un tasto e aggiungere con una grafica davvero molto minimale e bella e spostare ovviamente i nostri brani come si poteva ovviamente già fare prima ma ci dà la possibilità di farlo con una grafica totalmente diversa. Stessa cosa abbiamo un brano all'interno della playlist. Non partirà la classica cover, infatti ripeto se noi giriamo un'altra volta non succede praticamente nulla. Possiamo creare e modificare le nostre playlist, quindi ad esempio rimuovere quell'acquisti e crearne una nuova direttamente. E cosa molto bella ed importante, da oggi possiamo aggiungere una nostra immagine personalizzata. Ad esempio scattiamo una fotografia, ad esempio al Magic Mouse e possiamo utilizzarla come cover della nostra nuova playlist ovviamente. Ovviamente possiamo come al solito rimuoverla nuovamente per dare spazio ovviamente alla nostra fantasia. E con questo io vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi e di commentare. Un saluto da Mirko sempre qui per Apple Zain. Ciao!